Battipagliese, Audax, Cervinara, la partita. Mister Domenica cominciano i play-off, quale può essere l'ago della bilancia in questa semifinale con il Cervinara? Ma l'ago della bilancia, secondo me la squadra, la lotteria dei play-off è sempre strana, riescono dei risultati magari a volte inaspettati, inattesi. Noi ci siamo arrivati bene, ci siamo arrivando carichi, ci siamo arrivati mentalmente forti di quello che abbiamo fatto in questi mesi di lavoro. Sicuramente incontriamo, a mio avviso, la squadra più forte, la squadra dove ha delle qualità individuali, tecniche superiori rispetto alla media. Però giochiamo in casa, abbiamo doppio vantaggio, quindi possiamo giocarla su due risultati. Ma questo non dobbiamo pensarlo perché altrimenti il Cervinara non te lo permette. Come si prepara una gara del genere? In maniera tranquilla e normale, come abbiamo lavorato in questi otto mesi, sempre sul campo, cercare di lavorare su quello che è il nostro credo. Poi per il resto sarà il campo a dire se siamo stati bravi ancora una volta o meno. Mister, c'è tanto orgoglio dopo questi risultati consecutivi, 11 sono davvero tanti. Qual è stato il segreto di questi tanti risultati positivi? Ma non c'è un segreto, c'è la cultura del lavoro, la cultura del sacrificio, la cultura di voler andare sempre al limite delle proprie capacità. Questi ragazzi lo hanno fatto e lo hanno dimostrato. Il campione che giocava, veniva dalla promozione, ha fatto 20 gol, è un traguardo importantissimo. Sono felice per lui come tutta la squadra, non solo per lui, quindi la seconda miglior difesa, il terzo miglior attacco, hanno fatto golle in tanti. Bisogna dare merito e atto che questa squadra sia applicata al massimo e come è giusto a tratto dei benefici, dei risultati importanti. Si defila sulla sinistra, lo scambio con Siano, lo scarico per Guerrera, alza la testa, altra sventagliata, diventa quasi un tiro alla traversa di Guerrera. Poi la conclusione, il gol, il vantaggio della Battipagliese, ha segnato Edmondo Campione con il destro. Subito si sblocca il risultato dopo 66 secondi, passa in vantaggio la Battipagliese da un'invenzione di Ciccio Guerrera. Il tap-in di destro non è il suo piede, ma non si è visto. Di Edmondo Campione è arrivato a quota 14 in campionato. Il nostro morale è alle stelle, siamo sempre con i piedi per terra perché siamo dei giocatori, uno spogliatore, un gruppo umile, un allenatore umile, una società sempre presente che non ci fa mancare mai niente. Noi andiamo a affrontare questi play-off con la massima umiltà, serenità e consapevole dei nostri mezzi. Noi faremo il nostro, poi il campo della ragione, a noi o agli avversari. Chi sarà più bravo e anche un po' fortunato, anche perché la fortuna nei play-off ci vuole, porterà a casa questo risultato. Domenica arriva il Cervinare in questa semifinale play-off. Che gara ti aspetti? Una gara bloccata o spettacolare come è avvenuto qui nella gara di ritorno, quel famoso 4-3? È difficile, io credo, mi auguro perché le gare spettacolari fanno bene a tutti. A noi calciatori ci divertiamo, al pubblico fa veramente gola a tutti in uno spettacolo come è successo al ritorno con il Cervinare. Però penso che sia una gara molto ma molto dura. Si incontrano due squadre che stanno bene, tutte e due. Sarà una bellissima partita. Noi scenderemo in campo, anche se abbiamo due risultati a favore, però noi scenderemo in campo con la mentalità giusta, quella che ci ha a contatto distinti con questi 11 risultati consecutivi. Massima umiltà, determinazione di portare a casa questo semifinale di play-off. Si è arrivato a dicembre il tuo bilancio alla fine di questo campionato. Due gol su tutti, quello con la piccola a Ponte Cagnano e quello con le bollitane. Sì, mi hanno detto che vuoi firmare per un gol contro le bollitane, vincere addirittura in casa delle bollitane il derby. Io avrei firmato subito, però il calcio è bello proprio per questo, perché ti riserva delle sorprese. Io pensavo che per la piazza di Battipaglia il derby era importante, però non come lo è stato, perché ho visto l'entusiasmo dei tifosi, della gente, della piazza di Battipaglia, che teneva tantissimo a questo derby. È stata per me una soddisfazione enorme segnare contro le bollitane il gol vittorio e dare una gioia a tutti i tifosi, tutta la piazza di Battipaglia. È stata veramente una cosa spettacolare. Il bilancio io credo sia positivo, perché sono venuto qui a dicembre per dare un contributo alla causa per raggiungere i play-off e penso che, ti dico con molta sincerità, penso che ho dato una buona mano alla Battipagliese, però spero di completare questo mio ciclo nei play-off. La mentalità sia del gruppo, sia della società che del direttore, dello staff, è quella di essere leali sempre, sia al nostro discapito, sia al nostro vantaggio. Quindi leali prima di tutto. E poi perché tenere alta l'attenzione in prospettiva play-off è sacrosanto, quindi rilassarci domenica contro il Santa Maria avrebbe potuto portare ripercursioni nervose sulla partita di play-off. Tu che sei uno dei calciatori più esperti, che tiene un po' il polso dello spogliatoio lì dentro, nello spogliatoio che aera si respira in questa settimana. No, ma la solitaria serena, incosciente in senso positivo, perché è un gruppo fatto di tanti giovani, quindi un po' inconsapevoli di ciò che si sta cercando di fare, di buono. No, la solitaria tranquilla e serena. Il fatto di giocare domenica con il Cerebinara con due risultati a favore su tre è un vantaggio o uno svantaggio? Se ci culliamo sul fatto che abbiamo a disposizione anche il pareggio, può essere un danno, perché può essere inconsciamente la squadra può non giocarsela subito per cercare il gol, e questo può essere negativo. Noi dobbiamo pensare solo a cercare di fare subito gol, se Dio vuole, così mettendo la partita in discesa poterla gestire diversamente. Nell'area, in città, già si respira grande attesa per questo match. Un messaggio ai tifosi per invitarli ad essere ancora più numerosi, ancora più calorosi domenica allo stadio? Innanzitutto spero che il meteo sia clemente, perché porta mal tempo. Siamo andati già a vedere a distanza di una settimana la situazione meteorologica. Spero ci siano vicino, ma come hanno dimostrato fino ad ora, perché sono stati veramente il dodicesimo uomo in campo. Spero di vederne tanti di più, perché per un giocatore la cornice è tutto. Specialmente in queste partite, dove abbiamo ancora più bisogno di loro, spero ne siano imparecchi. Contro avrai Befi, Zerrillo, Russorillo. Di chi hai più paura, se si può parlare di paura? Paura no, però sono tutti giocatori che io rispetto tantissimo. Proprio per questo, già da oggi inizierò a rimboccarmi le maniche per stare al meglio domenica e fare un figurone contro di loro e cercare di prendermi tutta la posta in palio. E' sempre bello giocare queste partite contro quei giocatori là, perché se ne esci vincitore e ti senti non solo un grande calciatore, ma ti senti pure un grande uomo, perché passare per questi ostacoli grandissimi è ancora più soddisfacente poi la vittoria, la gusti ancora di più. Comunque sono giocatori di alto livello e bisogna giurargli battaglia. Matti Pagliese che ora dovrà trovare la forza psicologica di riorganizzarsi soprattutto di cominciare a giocare come sa. Ottimo il pallone ora per Campione, liberato da De Biase. Campione è tu per tu e c'è il nuovo vantaggio! Ancora Campione! 2-1, ritorna avanti la battipagliese dopo un minuto. Splendida la verticalizzazione di De Biase. Si è aperta un'autostrada per Campione, abile ad inserirsi con i tempi giusti e poi a battere De Luca con un tocco che gli è passato da sotto le gambe. 1-1 qui al Pastena. A Cevindana è una grossa squadra, dei giocatori molto forti, nomi importanti, un bel gruppo. Hanno fatto un gran bel campionato anche loro, però noi cercheremo di fare la nostra partita, di partire per vincere questa partita e ovviamente regalare la gioia ai nostri tifosi che anche domenica sono stati molto numerosi e ringrazio perché sono sicuro che domenica giocheremo in 12, non in 11, perché il fattore campo a battipaglia c'è e anche domenica l'abbiamo visto, quindi li aspettiamo molto numerosi. Attacca la battipagliese ora con Siano, resiste ad una carica, scarico su Marmoro, il cross a centro aria, c'è la testa di Calabrese, calza un campanile, il pallone per Munard, al limite Munard, la conclusione, gol! Gran gol! Gran gol di Davide Munard! Gran gol di Davide Munard! dove l'ha messa al volo sotto l'incrocio! 3 a 2 per la battipagliese! A bocce ferme si è un po' guardato indietro dicendo poteva arrivare qualcos'altro, potevano arrivare secondi, potevano anche provare a vincere questo campionato in qualche partita, che o mai poter dare qualcosa in più ci ha pensato? No, all'inizio, vabbè, sicuramente all'inizio se mi avessero detto guarda che arrivi a un punto dalla seconda, arrivi terzo, ci avrei messo la firma, però per l'escalation, ma soprattutto per... che a volte sta squadra mi ha sorpreso anche me, proprio per la voglia, per l'atteggiamento, per il gioco, per la coralità, per la cattiveria, per l'intrependenza, quindi è cresciuta man mano, di settimana in settimana, e quindi secondo me ha raccolto un risultato importantissimo, una stragione strepitosa e è normale, logico, uno vorrebbe sempre vincere, però ci sono anche gli avversari che a volte sono più bravi di te. M. Domenica, si prevede il pubblico delle grandi occasioni, Battipaglia risponderà sicuramente a questo grande evento. Un ennesimo messaggio ai tifosi di vicinanza, ancora di più, in questo momento delicatissimo della stagione? Noi tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che faremo è sempre merito loro perché non ci hanno mai lasciato sia in casa che fuori, sono stati sempre vicini a noi e io penso, io credo che parte di questi risultati è dedicata a loro, parte di questi sacrifici è merito loro, parte di quello che abbiamo fatto è anche frutto del loro incitamento sempre e comunque. vogliamo dare, vogliamo stupire anche loro, come ci hanno scritto dei striscioni bellissimi, penso che questa squadra può anche regalare qualcosa di importante a questi tifosi. parte Guerrera, pallone profondo sul secondo palo, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.